Eccoci di nuovo in studio con altre notizie come anticipato nei titoli. Passiamo alla cronaca nera. Un 28enne di Varna è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale su minori e detenzione di materiale pedopornografico. A far scattare le indagini la denuncia di una madre. Tutti i dettagli nel servizio di Sergio Braghini. Ancora la zona di Bressanone nel mirino degli inquirenti per presunti casi di pedofilia. Un 28enne di Varna è stato arrestato dal personale del commissariato di Bressanone con le accuse di violenza sessuale su minori e di produzione e detenzione di materiale pedopornografico. L'inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Donatella Marchesini, è partita lo scorso dicembre dopo la denuncia di una madre alla quale se ne sono poi aggiunte altre tre. Stando agli inquirenti l'indagato sarebbe il responsabile dei chirichietti di Varna e avrebbe operato anche in altre associazioni. Collaborava con numerose associazioni giovanili, quindi aveva a che fare con ragazzi anche di età molto giovane, quindi parliamo di bambini. Su segnalazione, per fortuna ecco, di un genitore si è dato avvio a questa attività che ha consentito appunto di ricostruire un po' alcuni episodi, di accertare alcuni episodi di violenza in danno di minori, anche se forse tecnicamente è opportuno parlare di violenza, anche se poi in realtà si tratta più che altro di atteggiamenti di particolare confidenza nei confronti di questi soggetti che sono stati anche ripresi e filmati in atteggiamenti intimi e quindi con la produzione di materiale qualificato come pedopornografico. Il soggetto appunto ad esito poi delle attività di indagine che hanno consentito anche di sequestrare materiale informatico che ha tuttora il vaglio, nel senso che chiaramente sono ancora in corso gli accertamenti tecnici per estrapolare poi tutti i dati eventualmente presenti all'interno di questo computer, appunto questa attività ha consentito poi oggi di acquisire tutti gli elementi per eseguire finalmente questa ordinanza di custodia cautelare, attività che è stata diretta dalla procura di Bolzano ed eseguita dal personale del commissario di Polizia di Bressanone. I fatti contestati al 28enne sarebbero avvenuti tra il 2006 e il 2009 e riguarderebbero quattro ragazzini, tutti maschi tra gli 11 e i 14 anni. Alcuni file compromettenti sarebbero stati cancellati dall'uomo quando, da voci in paese, aveva saputo della denuncia a suo carico, ma sono stati ripristinati da periti informatici della procura di Bolzano. Il parroco di Varna, informato alcune settimane fa dalla procura sull'inchiesta in corso, ha immediatamente sospeso il laico da ogni attività.